Una ragazza di 22 anni è stata ferita al volto con un coltello. L'aggressione è avvenuta all'uscita del suo turno di lavoro in questo ristorante che vedete alle mie spalle. Erano le 3.30 del mattino. La giovane di origini filippine ed un collega si trovavano nel parcheggio del ristorante Miura in via Sette Ponti ad Arezzo. Avevano appena terminato il loro turno di lavoro. A bordo di un monopattino si stavano avviando verso casa. Sono stati avvicinati da due persone, presumibilmente di origini magrebine, completamente fuori di senno che hanno iniziato ad inveire contro i due ragazzi. Poi è arrivato un terzo connazionale che aveva in mano un coltello ed ha iniziato a brandirlo in aria. La ragazza è stata colpita al volto da due fendenti. Alla fine i tre sono stati allontanati da altri due colleghi che, usciti dal locale in auto, hanno raggiunto i due e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'automedica in ambulanza della Croce Rossa di Arezzo. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Donato ma non ha riportato ferite gravi. È però sotto shock. I residenti della zona raccontano di continui schiamazzi e rumori fino alle prime luci dell'alba ogni fine settimana, ma nessuno avrebbe sentito distintamente quanto accaduto. I primi rilievi sono stati effettuati dalla squadra volante della Questura di Arezzo sul caso indaga la squadra mobile.